Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Il messaggio di questa sera parla della benedizione e che noi la benedizione la dobbiamo chiedere. Ho detto prima, i beni celesti bisogna chiederli. Quindi, molti credenti non cercano la benedizione, oppure ci girano intorno e tanti non ci credono. Vivono una vita religiosa, ma non chiedono al Signore, non lottano in preghiera per essere benedetti. E' molto importante prendere questi principi che sono nella Bibbia, che servono per noi. Gli esempi nella parola del Signore ci aiutano a comprendere come ci dobbiamo muovere in alcune circostanze. Spesse volte, quando noi acquisiamo conoscenza della parola del Signore e leggiamo qualcosa di qualcuno nella Bibbia, ci viene la voglia di dire voglio fare come faceva quello. Un poco come fanno le donne che guardano su YouTube. Come si fa una torta, come si fa una cucina, e poi si mettono a fare a casa. E come l'hanno vista, la riproducono a casa loro. Anche noi dobbiamo imparare così dalla parola del Signore, perché ci sono tanti esempi che ci aiutano. La parola del Signore non solo ci dà precetti, insegnamenti, ma tanti esempi che mettendoli in pratica si ripete ciò che è stato fatto in quella persona, in quel momento. Forse sono passati 4.000 anni, 5.000 anni, ma non ha importanza perché Dio è lo stesso. E adesso è il nostro turno di vedere Dio come opera. Gesù Cristo come si muove? In Ebrei, capitolo 13, verso 8, dice che Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Vuol dire che Gesù Cristo opera sempre allo stesso modo. ieri, in eternità, oggi presente, domani eternità. Per noi c'è ieri, oggi e domani, per Dio è tutta eternità. Leggiamo insieme in Genesi 32, ecco qua, Gesù Cristo è lo stesso, ieri faceva così, oggi fa così, e in eterno fa così, non cambia. In Genesi 32, 26, dice così, Io non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'uomo disse, lasciami andare perché spunda l'alba. E Giacobbe stava vivendo un momento particolare. Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Lui aveva un gruppo di persone, di una settantina di persone, su per giù, forse anche meno lì. Il suo fratello Esaù veniva verso di lui con 400 soldati. Era un capo. Un capo di un esercito, lo possiamo chiamare. E lui sapeva che il fratello non scherzava. Erano circa 20 anni che non si vedevano, ed ora il fratello voleva vendicarsi del danno che gli aveva portato. Giacobbe doveva lottare con Esaù. Invece, mentre era solo, che cercava le strategie da seguire, si trovò a combattere con Dio. Leggiamo nel verso 24. Che strano. Doveva combattere col fratello, ma quando rimase solo, un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Cioè, si trovò a combattere con Dio. Ma come? Lui doveva affrontare il fratello, ma aveva paura. E Dio sapeva che stava attraversando una difficoltà. Dio sapeva anche che lui ci teneva per la benedizione, la primogenitura. Era un credente. Anche se era un imbroglione, ma lui credeva in Dio. Così dobbiamo fare noi credenti. non dobbiamo combattere con le persone. Dobbiamo combattere in preghiera. E lì facciamo le più grandi scoperte. Perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro esseri senza corpo che sono nei luoghi celesti. Le battaglie sono fatte dietro di ciò che si vede avanti. E perciò noi dobbiamo imparare così. La stessa cosa fece Iabetz. Abbiamo sentito parlare spesso di Iabetz. Si trova in primo cronache, capitolo 4, verso 9. E qui dice Iabetz fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Iabetz perché diceva l'ho partorito con dolore. Anche questo, anziché combattere con la mamma che parlava con arroganza, alterigia, con maledizione e con disprezzo verso di lui, tanto che gli mise il nome di essere maledetto per il dolore che gli aveva portato. E noi non lo dobbiamo fare. Mi viene in mente, c'erano due sorelle nel mio paese, una aveva, hanno i figli tutti e due, c'era una delle sorelle che mandava sempre maledizioni al figlio. Che lo possano uccidere, che ti possano ammazzare, che ti possono fare questo, che ti possono fare quello. La sorella, quando la sentiva, diceva ma non fare così, ma non bestemmiare contro il tuo figlio perché guarda che è peccato e non solo. Bisogna stare attenti. Ma la sorella non si interessava. Un giorno ci fu un incidente stradale, il figlio morì, stranamente, proprio vicino al paese stesso. E venne questa mia, questa sua sorella da me e mi disse quante volte ho detto a mia sorella non bestemmiare, non maledire, non gettare maledizioni su tuo figlio perché gli può succedere qualcosa, le maledizioni, è meglio benedire, è meglio benedire. E così venne da me, sapendo che ero pastore, mi disse ti devo dire una cosa, ce l'ho proprio sul cuore, quante volte ho detto a mia sorella non mandare maledizioni a tuo figlio. Noi dobbiamo benedire i figli, non li dobbiamo maledire. Ma questa mamma di Yabetz lo malediva continuamente tanto che gli mise il nome di essere maledetto. E Yabetz, anziché litigare con la mamma, che parlava con arroganza, con alterigia, con maledizioni e con disprezzo, proprio come dice il Salmo 31,18. Il Salmo 31,18 dice che c'è tanta gente che fa così. Parlano con labbra bugiarde, che parlano contro il giusto con arroganza, con alterigia, con maledizioni, con disprezzo. Noi dobbiamo imparare quanto preghiamo, che Dio ammutolisca queste maledizioni che rilasciano verso di noi, verso l'opera sua, verso la nostra famiglia. Impara anche questo. quando preghi, leggiamo questo Salmo. Dì al Signore che siano ammutolite le labbra bugiarde che parlano contro di te, contro la tua famiglia, contro l'opera che Dio ti ha affidato con arroganza, con alterigia, con imprecazioni, con disprezzo. non permettere che questo accada, presentala al Signore. Perché lui dice in Isaia 54,15 che quando lui ha in mano la situazione, noi presentiamo le cose a Dio, dice possono fare alleanze quanto vogliono, ma senza la mia approvazione nulla sarà affatto. Leggiamo. Isaia 54,15 Il Signore che parla Ecco potranno fare alleanze ma senza di me chiunque farà alleanza contro di te cadrà davanti a te. E nel verso 17 continua e dice nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te per imprecare, per maledire tu stesso la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore coloro che servono al Signore abbiamo questa eredità di protezione da parte di Dio. La giusta ricompensa che verrà loro da me dice il Signore Gloria sia resa al Signore E cosa fece Iabetz anziché litigare con la mamma? Leggiamo insieme il verso 9 Anziché combattere con la mamma che parlava con arroganza altericia con maledizioni e disprezzo anziché mettersi a litigare con la mamma che si sviluppava l'amarezza tra di loro Iabetz si rivolse a Dio leggiamo il verso 10 Iabetz invocò Dì il Dio di Israele dicendo benedicimi ti prego allarga i miei confini sia la tua mano con me preservami dal male in modo che io non debba soffrire e Dio gli concesse quanto aveva chiesto 450 anni dopo Iabetz faceva quello che faceva Giacobbe presentando a Dio chiedendo la benedizione Signore grazie 450 anni dopo ci insegna che dobbiamo fare anche noi così e dire anche noi come disse Iabetz dammi una visione più larga aprimi altre possibilità di dissodare campi nuovi per seminare la tua parola per poter seminare come credenti noi dobbiamo noi dobbiamo desiderare non di dover acquisire o avere campi da coltivare ma che ci dia una visione dove seminare la sua parola una visione più larga che abbiamo otto miliardi di persone da raggiungere il Vangelo lo dobbiamo portare fino all'estremità della terra e dobbiamo dire Signore benedicimi e dammi una visione più larga che io possa dissodare campi nuovi come dice Geremia nel capitolo 4 verso 3 dissodatevi un campo nuovo alleluia e seminate la parola in tutte le direzioni dobbiamo chiederglielo al Signore anziché questionare con chi ha tempo da perdere noi facciamo come dice Geremia 4 3 leggiamolo insieme Geremia 4 3 dice così poiché così parla il Signore alla gente di Giuda di Gerusalemme parla alla Chiesa dissodiamoci un campo nuovo e non seminate tra le spine alleluia con la benedizione di Dio allora il seme porta frutto alleluia Gesù dice in Matteo 13 23 che quando seminiamo con la benedizione di Dio c'è un grande raccolto guardiamo cosa dice Gesù quello invece seminato nella terra buona è colui che ode la parola e la comprende egli quindi porta del frutto e rende il cento e sessanta e il trenta per uno porta frutto allarga la mia visione e Dio risponde impariamo a cercare una nuova visione al Signore una preghiera tra le preghiere più corte che ci siano nella Bibbia il verso 10 di primo cronache 4 leggiamolo un'altra volta noi dobbiamo cercare la benedizione una visione più larga per seminare 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 con la benedizione di Dio Yahweh anziché litigare con la mamma il Dio di Israele dicendo benedicimi ti prego allarga i miei confini sia la tua mano con me preservami dal male in modo che io possa non debba soffrire e Dio gli concesse quanto aveva chiesto e Dio gli concesse quanto aveva chiesto il Signore farà per noi come fece con Iabetz stai chiedendo la benedizione a Dio stai chiedendo di avere una visione più larga o stai questionando una volta con uno una volta con un altro perdi tempo ti agiti e il tuo cuore si chiude e crei solamente guerriglie in giro dove tu vai impariamo cerchiamo la benedizione di Dio e seminiamo perché così vediamo il frutto quando noi seminiamo abbiamo il desiderio di vedere il frutto nasce in noi insieme alla semina il desiderio di vedere il raccolto quando noi seminiamo nel campo di Dio ci aspettiamo un raccolto subito io quando investo nell'opera del Signore nasce subito il desiderio dentro di me che il Signore mi benedice il Signore mi ricompensa perché Lui parla proprio di ricompensa Lui è colui che ricompensa quanto noi facciamo così in Ebrei 13 11 6 dice che quando noi ci accostiamo a Dio dobbiamo partire già col nostro cuore che Egli è ed è colui che ricompensa quando noi spandiamo 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 già a partire come seminatore leggiamolo insieme gloria al Signore 11 6 Ebrei 11 6 dice chi si accosta a Dio deve credere che Egli è o senza fede è impossibile piacergli poiché quando ci accostiamo a Dio dobbiamo credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano e che fa crescere ciò che seminiamo seminiamo nel campo di Dio gloria al Signore nasce dentro di noi insieme alla semina il desiderio di vedere il raccolto alleluia gloria al Signore semina sempre non ti fermare perché se non semini si spegne anche il pensiero dal dover raccogliere se tu non semini il Signore deve benedire che cosa deve benedire se invece hai seminato benedici il seme e di ritorno hai la benedizione di Dio alleluia e Dio gli concesse quando aveva chiesto il Signore farà per noi come fece per Iavez stavamo leggendo in Genesi 32 26 lo vogliamo rileggere lo stesso Dio o l'uomo disse lasciami andare perché spunta l'alba e Giacobbe non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto lo stesso Dio che lo aveva ferito nel verso 25 leggiamo Signore aiutaci or quest'uomo vide che non poteva vincerlo gli toccò la giundura dell'anca e la giundura dell'anca di Giacobbe fu slocata mentre quello lottava con lui lo cambiò da ingannatore lo fece diventare iniziatore del popolo di Dio leggiamo il verso 28 gli chiese disse il tuo nome non sarà più Giacobbe Giacobbe vuol dire ingannatore lui aveva aveva ingannato il padre rubandosi la prima genitura aveva ingannato il fratello aveva ingannato il suocero aveva ingannato le mogli e con Dio ma Dio lo cambiò lo cambiò in un istante prima lo rese umile e poi gradualmente lo benedisse come lo rese umile il verso 25 ci dice come leggiamolo gli toccò la giunta dell'anca e la giunta dell'anca di Giacobbe fu slocata mentre quello lottava con lui nel verso 28 leggiamo un cambiamento e quello disse il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto col fratello aveva lottato col padre col suocero con le moglie con Dio ma Dio lo cambiò lo cambiò in un istante prima lo rese umile e poi gradualmente lo benedisse leggiamo il verso 30 il verso 30 ci dice che da quel momento non fu più lo stesso lo benedisse lì Giacobbe chiamò quel luogo Periel perché disse ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata lo benedisse e non fu più lo stesso non fu più lo stesso nella carne non poteva fare più come faceva prima era zoppo leggiamo il verso 31 Signore aiutaci questa sera il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dall'anca il sole si levò ma zoppicava quando il Signore si rivela è come quando si fa un'operazione la carne deve essere sedata questo è necessario perché se la carne non viene sedata l'operazione non si può fare questo è necessario però Dio era all'opera zoppo allora zoppo si fece avanti per incontrare il fratello gli era passata la paura ormai nel capitolo 33 verso 3 lo troviamo questo zoppo che si presenta in un modo diverso davanti al suo fratello egli stesso passò davanti a loro prima aveva inventato tutte le strategie dovevano andare tutti gli altri davanti e così via adesso lui zoppo passò davanti a tutti e si inchinò fino a terra sette volte finché si fu avvicinato al suo fratello e si accorse che senza la benedizione di Dio qui si avvicinò al fratello come un servo verso il suo fratello come un servo si sottomette a un padrone c'erano sette volte un servo che si doveva piegare davanti al padrone e lui così fece ed Esau cambiò la benedizione di Dio fece cambiare idea a Esau leggiamo il verso 4 perché la benedizione di Dio lo cambiò istantaneamente sedò la carne ed attivò l'umiltà ed Esau gli corse incontro lo baciò gli si gettò al collo lo baciò e pianzero questo Dio era intervenuto gli tolse la paura e perché Dio gli aveva detto nel verso 28 del capitolo 32 dice così il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele il tuo nome non sarà è più un imbroglione basta con gli imbrogli ma sei l'iniziatore di un popolo il popolo mio perché tu hai lottato chiedendo la benedizione hai lottato con gli uomini come un imbroglione ma hai vinto anche con me perché hai lottato in preghiera e tu sei principe di Dio sei l'iniziatore del mio popolo nel verso 5 del capitolo 33 troviamo che quando il fratello gli chiese chi sono questi bambini questi figli poi Esau alzando gli occhi vide le donne e i bambini e gli disse chi sono questi che hai con te Giacobbe rispose sono i figli che Dio si è piaciuto di dare al tuo servo dice sono i figli che Dio egli vede in quei pochi bambini che erano davanti a lui vede già intorno a sé nei figli l'inizio di un popolo così come Dio aveva detto l'iddio di Abramo di Isacco e di Giacobbe attenzione guardiamo insieme Esau era il fratello ma non viene detto che Dio è l'iddio di Esau Esau era un grande condottiero era il capo dell'esercito suo stesso di 400 persone 400 soldati più immagina che aveva una posizione di comando però non aveva Dio Giacobbe da quel momento vedeva nei suoi piccoli l'eredità del popolo di Dio sono adesso i figli che Dio mi ha dato perché Dio mi ha benedetto e mi ha detto che io sono l'iniziatore di un popolo le benedizioni di Abramo di Dio di Abramo le benedizioni del nonno le benedizioni del padre Isacco Dio li riversò sopra di lui e da quei pochi bambini è scaturito il popolo di Dio è l'unica nazione al mondo che è uscita dal cuore di Dio mentre tutti i popoli sono stati conquistati riconquistati da re da eserciti il popolo di Dio viene fuori dalla benedizione di Dio un popolo insignificante andarono in Egitto una settantina di persone ne vennero fuori tre milioni pensa perché Dio è l'Iddio di Israele Israele chi era? Era Giacobbe spesse volte troviamo poi nell'Antico Testamento che Dio parla Giacobbe Israele come per esempio se leggiamo in Isaia capitolo 43 dal verso 1 al verso 3 guardiamolo così impariamo queste cose la differenza che passa tra Giacobbe Israele Giacobbe era il vecchio imbroglione Israele era il popolo di Dio leggiamolo insieme Isaia 43 ma ora così parla il Signore il tuo creatore oh Giacobbe qua parla Giacobbe nel suo singolo da imbroglione pure da Dio veniva colui che ti ha formato oh Israele Giacobbe era stato trasformato il popolo non temere perché io ti ho riscattato io ti ho chiamato per nome tu sei mio quando dovrai attraversare le acque io sarò con te quando attraverserai i fiumi essi non ti sommergeranno quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà perché io sono il Signore il tuo Dio il Santo di Israele il tuo Salvatore io ho dato l'Egitto come tuo riscatto l'Etiopia e Seva al tuo posto dice i figli che Dio mi ha dato e gli vede già intorno a sé nei figli l'inizio del popolo di Dio lì Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe Esau era un grande capo ma spiritualmente era zero nel verso 11 del capitolo 33 leggiamo insieme ti prego accetta il mio dono che ti è stato presentato perché Dio è stato molto buono con me e io ho di tutto la benedizione di Dio aveva invaso la sua vita prima con tutti gli imbrogli aveva solo fastidi adesso vedeva la benedizione di Dio in tutto leggiamo l'ultimo rigo e tanto insistette che Esau lo accettò voleva far parte dei suoi beni che cambiamento radicale che porta a Dio quando noi abbiamo un incontro con Lui quando noi cerchiamo la benedizione Dio ci benedice e ci sentiamo non siamo più avari come prima il Signore benedice e noi cominciamo ad essere come dice il Vangelo dice che Dio ama un donatore gioioso un donatore allegro ci cambia ci trasforma prima siamo come il centro della ruota della bicicletta che tutti i raggi confluiscono verso di noi vogliamo arraffare da tutte le parti quando il Signore cambia la nostra vita dal centro siamo pronti a lanciare in ogni direzione perché la benedizione di Dio ci fa sentire uomini e donne benedette e qui riconobbe la benefica la benefica mano di Dio ma si era appropriato della linea della benedizione nel capitolo 32 verso 9 parlava di Dio anche prima ma faceva come quei credenti moderni leggiamo il verso 9 del capitolo 32 aveva su per giù parlato di Dio ma non aveva fatto un'esperienza poi Giacobbe disse o Dio di Abramo mio padre qui stava pregando Dio di mio padre Isacco o Signore che mi dicesti torna al tuo paese dai tuoi parenti e ti farò del bene qui lui faceva tutti i programmi come poteva improgliare infatti improgliò il suo suocero improgliò le sue doni le sue mogli aveva fatto come tanti di noi che facciamo i piani senza Dio invece dopo vedeva l'inizio di un popolo numeroso nel verso 5 del capitolo 33 la benedizione aveva preso corpo nella sua vita alzando gli occhi vide le donne e i bambini e disse chi sono questi che hai con te Giacobbe subito riconobbe che la benedizione di Dio si era posata sopra di lui gli stessi figli li vedeva con occhi diversi perché li vedeva come l'inizio di un grande popolo perché la benedizione di Dio era in lui e nella sua discendenza e si sentiva benedetto noi che cosa abbiamo scoperto questa sera queste persone ci hanno dato un insegnamento che funziona dobbiamo cercare la benedizione di Dio Dio con la sua benedizione e quando egli comincia ad operare nella nostra vita la nostra carne non deve sopraffare lo spirito deve essere come se data dobbiamo dare spazio allo spirito santo nella nostra vita e proprio qui cominciò subito diventò più umile ma la benedizione di Dio si manifestò in un modo potente facendo riabbracciare il fratello e visse in pace da tutti gli improgli che aveva fatto prima il Signore ci trasforma ci cambia e ci benedice non dimenticare di cercare la benedizione di Dio allineare la tua vita con il piano di Dio non abbiamo letto alcuni versi dal verso 28 del capitolo 32 alla fine dove fece delle esperienze con Dio si consacrò cominciò a patteggiare con Dio ma ci fu una vera e propria conversione a Dio quella che il Signore vuole fare nella nostra vita quando noi cerchiamo Dio e gli cambia ogni cosa ebbene vogliamo insieme pregare il Signore Signore veniamo a te insieme con la sorella col fratello in questo momento ti chiediamo col cuore di partecipare la tua benedizione su ognuno di noi mentre siamo nella tua presenza te lo chiediamo insieme Signore benedicimi dillo col cuore Signore benedicimi e fa che io non abbia soffrire e fa che io non abbia soffrire dammi una visione più larga Signore dammi una visione più larga per poter seminare la tua parola per poter seminare la tua parola in modo che ci possa essere un grande raccolto di anime dillo col cuore Signore dammi la possibilità di seminare la tua parola perché mentre lo faccio tu mi benedici per il raccolto che mi fai vedere Signore benedici la sorella benedici il fratello benedici la sua famiglia e che sia la sua casa una casa di adorazione dove tu hai il primo posto nella sua vita nella sua casa e nella sua famiglia perché allora la benedizione di Dio si riversa in un modo potente nella sua famiglia nella sua casa e nella sua discendenza perché tu hai promesso che usi benignità fino alla millesima generazione di coloro che ti amano Signore fa che ci consacriamo a te per vedere i risultati della tua benedizione nel nome di Gesù amén amén amén